Ormai in minuti finali per la UNEX Genesi è una sentenza, con la Spal ultimo minuto perdiamo la partita, con Rimini ultimo minuto perdiamo la partita, Lucchese ultimo minuto perdiamo la partita, oggi col Pineto vinciamo grazie a un gol perché negli ultimi minuti stavolta ci è andato a favore un rigore di Hildiz e ancora una volta nei minuti finali gli regaliamo un calcio di rigore, Netto al Pineto va a Volpicelli e realizza i gol del 2 a 2. ma stiamo più attenti, vuol dire che nei minuti finali non abbiamo la concentrazione giusta, l'allenatore deve entrare nella testa dei giocatori, non è possibile che abbiamo perso almeno una diecina di punti, 10 punti nei minuti finali, ci dobbiamo svegliare perché dobbiamo salvare la categoria, svegliamoci, svegliamoci, se no si deve cambiare allenatore, a questo punto non lo so, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima, ciao!